La vita di Mastro Vincenzo e il sarto cosentino morto il 2 gennaio scorso nell'incendio di Vampato all'interno della sua abitazione, sita tra via Rivocati e via Campanella a Cosenza, è finita in cenere con lui i suoi libri e le sue poesie, oltre agli attrezzi del mestiere per cui era conosciuto nella zona. Un'esistenza trascorsa trago, filo, libri e la passione per la filosofia, è morto così il 77enne Vincenzo Tavella, tra le sue passioni che lo hanno accompagnato fino alla fine e che con lui sono terminate. Tavella, originario di Vibo, viveva a Cosenza ormai da 60 anni. A Vibo erano rimasti tutti i suoi parenti, lui qui a Cosenza, solo, non sposato, dove era giunto in tenere età e aveva trascorso l'infanzia e il resto della sua vita. A Vibo tornava solo per le feste, ma il fatto volle che quest'anno non fosse così, quasi a dare segno che la sua esistenza si sarebbe dovuta concludere nella città che lo aveva in un certo senso adottato. Era un uomo solitario Mastro Vincenzo, non forzatamente, ma in vista della scelta di trascorrere il tempo libero immergendosi nelle sue passioni più grandi, scrivere libri e poesie e leggere tantissimo, perché Vincenzo amava la cultura e soprattutto la filosofia. E anche il suo ultimo viaggio ha preferito compierlo lì, tra quelle quattro mura e tra ciò che più amava e riempiva, i libri, l'ago, il filo e la filosofia.